Conferenza stampa stamattina al Palazzo San Nicolò della società Teramo Sport che gestisce appunto il palazzetto di San Nicolò alla luce anche delle recenti polemiche in estate sul parquet, sul parquet rovinato del Palazzo San Nicolò. Sì, abbiamo fatto questa conferenza questa mattina proprio per dimostrare che comunque quelle foto che non uscite nei social erano foto che erano macchie che dipendevano solo dal consumo normale del palazzetto. Infatti erano macchie dovute alla pece che si trovano in tutti i palazzetti dove ci sono partite di palla a mano. Abbiamo appena avuto tempo dato una pulita che probabilmente non veniva fatta da tantissimo tempo all'interno del palazzetto e abbiamo dimostrato che quelle macchie non ci sono più. Quindi una polemica che è morta sul nascere perché non aveva modo di esistere. La polemica è nata appunto sorta perché all'interno del Palazzo San Nicolò in quest'ultimo periodo si è allestito insomma la stagione, alcuni spettacoli della stagione di prosa della Riccitelli quindi la polemica è legata al fatto che erano state collocate delle sedie all'interno, insomma sul parquet. Però in realtà non hanno rovinato nulla. Assolutamente no, ma non solo. Anche grazie a questa stagione teatrale che è stata realizzata e che si concluderà all'interno del palazzetto noi gestori che veniamo comunque insieme anche a Franco Chionchio dal mondo dello sport abbiamo sempre cercato di privilegiare le società sportive. abbiamo fatto dei lavori affinché tutto questo, il palazzetto diventi sempre più una casa dello sport di Teramo abbiamo allestito un parcheggio da oltre 200 posti, abbiamo cercato di trovare le soluzioni per le società sportive abbiamo cercato di cambiare, aggiustare gli orari proprio perché essendo uomini di sport sappiamo che quella è la collocazione naturale del palazzetto e lo sport. Poi c'è stata questa richiesta all'inizio dovuta anche alle difficoltà che il sindaco ci aveva prospettato e noi abbiamo cercato di trovare la soluzione migliore ma assolutamente abbiamo sempre cercato di salvaguardare le società sportive.